Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti veloci di mandorle al limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono mandorle, zucchero, lievito per dolci, succo di limone, scorza di limone. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le mandorle e le facciamo polverizzare per 30 secondi a velocità 8. Mettiamole da parte. Senza lavare il boccale mettiamo lo zucchero, la scorza del limone e lo facciamo polverizzare per 20 secondi a velocità 10. riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo adesso la farina di mandorle, il succo di limone e il lievito per dolci. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 4. L'impasto risulterà leggermente alpicicoso. Avvolgiamolo nella pellicola trasparente e riponiamolo in frigo per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto dal frigo. Formiamo ora delle palline del peso di circa 30 grammi l'una. Passiamole nello zucchero a velo. Diamo la forma schiacciando con i polpastrelli. Posizioniamoli su una teglia rivestita con carta da forno. Una volta completati tutti i biscotti spolverizziamoli con lo zucchero a velo. Cuociamoli in forno prediscaldato statico a 180 gradi per 12-15 minuti circa. I biscotti sono cotti. Lasciamoli raffreddare completamente prima di rimuoverli dalla carta da forno. Biscotti veloci di mandorle al limone. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.